Oggi utilizziamo un chip CD4013BE che contiene al suo interno due flip flop di tipo D. Lo useremo oggi per realizzare un debouncer, quindi per andare a togliere i disturbi da un pulsante e creare un impulso pulito. Iniziamo subito. Oggi utilizziamo una copia di flip flop contenuti nel chip CD4013BE. Quindi è un chip CMOS, contiene due flip flop di tipo D con set e clear o set e reset. Cioè al suo interno troviamo ben due flip flop di tipo D, quindi avremo un ingresso D, avranno un set, qui sotto abbiamo il reset, l'uscita Q e Q negato, più il segnale di clock che forniamo. Dunque l'uscita Q è sul 1, Q segnato 2, abbiamo il set sul 6, il reset sul 4, il clock arriva sul 3 e il segnale, il dato arriva sul 5. Quindi questo è solo uno dei due, ce n'è un altro identico, cambia solo la pedinatura. Dunque lo faccio in giallo, avrà il set sull'8, il reset o il clear sul 10, l'uscita sarà sul 13, l'uscita negata sul 12, l'ingresso dati sarà sul 9, il clock arriva sul 11. L'alimentazione, quindi questo qua è un chip a 14 pin, quindi andremo a fornire l'alimentazione sul pin 14 e avremo il 7 per il ground 0 volt. Lo useremo per realizzare un debouncer o meglio per creare un segnale pulito proveniente da un pulsante. Ma voi sapete che quando pigiamo un tasto purtroppo non otteniamo mai un segnale pulito, un on off, ma ci sono tutti i rimbalzi, quindi ci sarà quando viene premuto e anche quando viene rilasciato, ma soprattutto quando viene rilasciato, dei rimbalzi meccanici che sporcano il segnale. Questi possono dare origine a una serie di falsi contatti. Quindi vogliamo realizzare un sistema per cui premendo il tasto vado a generare un impulso pulito. Quindi io posso premere il tasto, questo creerà tutti i disturbi possibili, ma in uscita ottengo un bel impulso netto con la lunghezza predefinita che non può dar problemi poi a tutta l'elettronica successiva. Allora useremo il nostro flip flop, quindi lo vado a mettere qua, faccio un po' in grande, usato in modo un po' improprio, un po' particolare. Bene, difatti possiamo forzarlo e lo utilizziamo come se fosse un SR. Come faccio? Vado a prendere il D e lo collego al ground. Ovviamente avrò il pin 7 che è il suo ground, quindi lo portiamo anche questo a 0. Poi abbiamo il clock, edge trigger, quindi c'è la freccetta, ma metto anche lui a 0. Il clock era sul pin 3, quindi non utilizziamo il clock. Cosa mi resta? Allora l'alimentazione sul pin 14, mi resta il set che viene utilizzato per impostare inizialmente il flip flop, avrò l'uscita Q e poi il pin di reset. Quindi avremo solo questi qua. Quindi il set è sul 6, il Q è sull'1 e il reset è sul 4. Ragioniamo un attimo sull'uscita. È sull'uscita che voglio andare a generare un impulso pulito e netto. Questo poi per visualizzarlo lo andremo a collegare a classico LED e resistenza, quindi 3,90, un LED a piacere. Andiamo a mettere una rete RC, quindi una resistenza e un condensatore che si caricherà. Questa resistenza la chiamo R0, questo lo chiamo C0. Diamogli già anche dei valori, se no poi mi dimentico. Per esempio avevo 220K e questo qui l'ho messo da 100 nF. Il punto centrale di questo partitore formato dalla resistenza e un condensatore lo vado a portare sul pin R. Se arriva un impulso su S, per così come l'ho messo, adesso vediamo anche la tavola della verità, fa in modo, imposto S mi serve per settare il flip flop e quindi vado a mettere Q a livello alto. Se qui a livello alto si carica il condensatore tramite R, quindi ci metterà un certo tempo per caricarsi, non appena arriviamo a livello adatto, la tensione che viene prelevata da R fa sì che si resetti l'uscita e quindi torna a zero. Questo meccanismo fa sì che si generi questo impulso. Modificando RC posso variare la larghezza dell'impulso. Perché funziona così? Perché se vi ricordate la tabella del flip flop dove abbiamo, vado a memoria e spero di non sbagliare, abbiamo il clock, poi abbiamo set, reset, il dato e l'uscita. Allora se il clock è a livello basso, il dato può fare quello che vuole, l'uscita verrà mantenuta. Quindi questo se S e R sono zero, sempre col clock basso. Se S l'ho imposto a 1, il dato può fare quello che vuole, ma l'uscita scatterà a 1. Stessa cosa, se l'uscita zero, clock basso, vado a impostare un segnale su R, questo va a resettarmi l'uscita. Poi il funzionamento del flip flop avviene quando ho un fronte di salita. Quindi se il clock si muove, quindi ho un fronte di salita, cosa succede? Vedete che qua metto una X su S e R, anche se in questo particolare flip flop, il 40 a 13, S e R, vengono sempre letti. Quindi sono indipendenti dal clock. Comunque immaginate di non utilizzarli, fronte di salita, se qui ho un 1, l'uscita sarà 1. Sul fronte di salita, quando qui metto 0, sul dato 0, l'uscita sarà pari a 0. Noi lavoriamo, avendo bloccato il clock, siamo in questa zona qua. Quindi lo stiamo usando come se fosse un S e R. Anche il dato non mi importa, l'ho messo a 0. E quindi lavoro solo con S e R. Il gioco sta nel portare qua un segnale che sia adatto e pulito. Quindi andremo a costruire un circuito in cui abbiamo i 5 volt, il nostro tasto che andiamo ad azionare. Sarà un po' più completo perché cerco di andare a eliminare i rimbalzi e la parte sporca. Poi vado a creare qua un partitore con una prima resistenza, un secondo resistore e arrivo finalmente a grammo. Quindi il primo lo metto da 10K, chiamo R1. Poi abbiamo una seconda resistenza da 1M, questa è R2. Questa ha in parallelo un condensatore, condensatore C1. L'ideale sarebbe un nanofarad, io l'avevo forse da una decina. Quindi 1 o 10 nanofarad va bene, funziona lo stesso. E poi finalmente andiamo a portarci sul nostro flipflop con un altro condensatore da 1NF o 10NF, quindi quello che avete nel cassetto, non esagerate. Arriviamo qui con però una resistenza da 1M, questa R2 collegata a grammo. Quindi molto complicato il circuito di ingresso, ma è abbastanza semplice. Allora, questa è la chiamata R3, R2 questa. Questa R2 tiene S legato a 0, in modo che sia sempre a livello basso. Quando premo S, il tasto, faccio in modo che qui mi arrivi un impulso. Ma cosa succede? Faccio caricare, premendo S, il condensatore C1 tramite R1. Quindi si carica abbastanza rapidamente, avremo un segnale che sale, finché arriva a 5V. Questo impulso riesce a passare tramite questo condensatore, chiamiamolo C2, quindi tramite C2 riesce a passare e raggiungere il pin S. Quindi si presenta sul set scatenando l'impulso di uscita, come abbiamo visto prima. Rilasciando il pulsante S, ho che il condensatore C1 si scarica tramite R3. R1 e C1 servono anche per annullare eventuali effetti di rimbalzo, quindi fanno un po' da filtro, in modo che il segnale che andiamo a generare, se ci sono dei rimbalzi, venga comunque ripulito e un po' sbussato. Quindi questo sistema abbastanza complesso vi permette di creare degli impulsi molto puliti, molto netti in uscita. Va bene come front-end di una pulsantiera di un circuito elettronico. Andiamo a vedere su breadboard. Lo vedete in azione, premendo abbiamo l'impulso visibile in uscita. Vedete come è stato costruito? Sulla destra abbiamo il pulsante con resistenza di 10k e nella parte sottostante abbiamo il condensatore C1 e la R3. Poi abbiamo qua questo condensatore da 10nF, che è il famoso C2, che porta il segnale all'ingresso del nostro chip. Il partitore di uscita, lo vedete qua, resistenza da 220, è un altro condensatore che serve per generare l'impulso. Il circuito che abbiamo visto è abbastanza complicato da realizzare su una breadboard. Ovviamente se poi fate uno stampato non avete problemi di questo tipo. È importante la circuiteria passiva che gli abbiamo messo attorno perché questa permette di creare un segnale pulito. Quindi se volete fare un'interfaccia che funzioni bene, con i tasti che rispondono in modo pronto, netto e pulito e non prendono disturbi e rimbalzi, questo è uno dei sistemi che viene utilizzato. Bene, fatene tesoro, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo domani. Ciao!